La consapevolezza non deriva da un luogo, non arriva da qualche luogo lontano o da qualcuno. La consapevolezza si risveglia e quando si risveglia, si risveglia in sé stessa. Per questo scopri che il tuo nome, la tua forma, il tuo personaggio non sono mai veramente esistiti. Li stavi solo immaginando. Immaginando crei, crei quel personaggio. La consapevolezza emerge con il dissolversi, lo spegnersi dell'immaginazione. L'immaginazione si spegne e torna alla sorgente della sua potenzialità, dove ancora non è generata. Lo spazio è libero, immenso, infinito e nessuno lo altera, nessuno pone sul creato un significato. Allora la consapevolezza è limpida, è evidente, è cosciente di sé. È libera da distrazioni, non arriva da qualcuno o da qualche luogo. Era già qui, era già presente, da sempre. Non ha tempo la consapevolezza. È fuori dal tempo, fuori dall'immaginazione di un tempo e di uno spazio. Il risveglio del sé rende libera la tua anima, la rende libera e ciò che è, realizzata in ciò che è. Parole come «Beatitudine», «Amore assoluto», «Amore infinito», «Divino», «Meraviglia», «Perfezione», «Silenzio». Possono solo lontanamente descrivere la bellezza di ciò che è. Sono vaghi i tentativi di descrivere la perfezione. SILLE